Per questa nuova storia di salute che cambia siamo in compagnia del dottor Ottavio Iommelli, responsabile dell'ambulatorio di medicina integrata del San Paolo di Napoli. Allora chiediamo al dottore come è nato questo amore per la medicina tradizionale cinese e come è riuscito a creare questo ambulatorio che è stato uno dei primi per il sistema sanitario nazionale. Diciamo che io come medico sono stato un po' fortunato perché ho iniziato a interessarmi di medicina integrata, in particolare l'agopuntura, già al secondo anno della facoltà di medicina. E quindi ho percorso una strada dove si univano già durante la mia formazione medicina classica e medicina integrata, in particolare la medicina tradizionale cinese. Era impossibile pensare a dei trattamenti di agopuntura che arrivano oggi 10 sedute, 400 euro, più 100-150 la visita, insomma non è fattibile per molte persone. Allora il mio sogno era quello di permettere a queste persone di usufruire, di praticare agopuntura anche in ambienti pubblici. Per cui quando ho vinto il concorso, già nel 91 ho iniziato a lavorare, a gettare le basi per creare un ambulatorio di agopuntura. Nel 92 è partito e quindi da allora poi man mano siamo cresciuti, siamo diventati anche una struttura semplice dipartimentale. Poi per il risparmio sulla sanità e su tutto ce l'hanno chiusa, però noi chiaramente abbiamo cercato sempre di lottare. Veramente dal 92 c'è stata sempre questa battaglia, questa lotta perché ogni tanto che veniva un nuovo direttore sanitario, un nuovo direttore generale hanno sempre tentato di chiudere. Quindi una volta i pazienti si incatenavano, una volta lo facevo io, una volta si facevano gli scioperi della fame, e recentemente ho fatto lo sciopero del sangue e insomma siamo ancora qua a erogare prestazioni di medicina integrata, agopuntura e fitoterapia in ambiente pubblico. Ma secondo te perché c'è questa o non consapevolezza, o non interesse o un'ostilità? All'inizio c'erano poche possibilità scientifiche di manifestare l'efficacia dell'ambulatorio di agopuntura, per cui posso anche capire che all'inizio c'erano poche ricerche, eccetera. Oggi invece è stata riconosciuta dal National Institute of Health la massima autorità scientifica mondiale, però nonostante questo c'è sempre in alcuni colleghi un po' di scetticismo, ma è legato più all'ignoranza, al nuovo diciamo, perché poi oramai ci sono i master universitari di agopuntura, anche noi ne facciamo uno con la Federico II, master in agopuntura e fitoterapia. Quindi si è inserita nel contesto ufficiale scientifico, l'organizzazione dei medici, la FNOMCEA, oramai ha decretato l'efficacia dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omiopatia e ha dato anche le indicazioni sulla formazione. Quindi, diciamo, c'è più ignoranza che non prove contrarie all'efficacia dell'agopuntura. Sì, adesso forse non c'è, ma hai saputo dell'omeopatia? Sì, ma lì è stato un fatto, diciamo, schizofrenico dell'ordine di medici. Questo non entra, non lo metterò, però insomma... Lì è stato un fatto schizofrenico perché praticamente c'è stato un non controllo da parte dell'ordine dei medici su questi esponenti che hanno fatto queste dichiarazioni, perché la parte ufficiale dell'ordine dei medici ha decretato, diciamo, che l'agopuntura, la fitoterapia, l'omiopatia, l'omotossicologia e la medicina antroposofica sono realtà e tecniche mediche e bisogna rifarsi a un decreto legislativo stato-regione per la formazione dei medici. Ci sono gli elenchi presso l'ordine dei medici dove, diciamo, gli esperti di agopuntura che hanno seguito un corso formativo efficiente possono iscriversi, praticamente. Quindi perciò, dicevo, mi sembra strano questa cosa. Le persone che amano questo lavoro sono benvenuti a frequentare e lavorare con me in questo ambulatorio. o le persone che invece non si trovavano bene, avevano delle difficoltà, ponti d'oro e sono andate via. Poi da sempre abbiamo un buon feeling con i pazienti, ma guarda, non ci vuole nemmeno molto. Basta dire buongiorno quando vengono e buonasera quando escono, essere un po' più disponibili, chiedere come si sente, cioè delle piccole cose, perché il paziente tutto sommato vuole, oltre a essere curato, anche coccolato. Le persone che amano questo lavoro sono benvenuti a frequentare e lavorare con me in questo ambulatorio. Le persone che invece non si trovavano bene, avevano delle difficoltà, ponti d'oro e sono andate via. Poi da sempre abbiamo un buon feeling con i pazienti, ma guarda, non ci vuole nemmeno molto. Basta dire buongiorno quando vengono e buonasera quando escono, essere un po' più disponibili, chiedere come si sente, cioè delle piccole cose, perché il paziente tutto sommato vuole, oltre a essere curato, anche coccolato. A me, per esempio, c'è un episodio che mi è rimasto nel cuore di una vecchietta, una persona di una certa età, aveva un problema lombare, una lombalgia. Ha fatto la gopuntura e io ho pensato di fargli fare da un operatore Tuinà, una signora che frequenta l'ambulatorio come collaboratore, di fare un massaggio. Dopo questo massaggio la persona, quasi piangendo, diceva che è stata benissimo e che il massaggio è stato stupendo e non è stata mai massaggiata da nessuno, nemmeno dal marito. Per cui, per me mi ha riempito il cuore questa cosa, per cui ti dà forza per continuare avanti su questo discorso e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene. Insomma, poi ho curato un po' l'ambiente, ho pensato io qua ci devo stare più di dieci ore al giorno, allora voglio vivere in un ambiente più piacevole, diciamo. E quindi ho incominciato a comprare quadri, ho incominciato a mettere su pelletti, cose, eccetera, in modo tale da creare un ambiente un po' più confortevole anche per chi lo frequenta come paziente, come persona. Sì, molti poi degli oggetti che si vedono qui vengono direttamente dall'università di frequenti in Cina, dove comunque c'è un bellissimo scambio. Sì, 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 poi perché sono professore visiting, professore esterno alla facoltà di Enan in Cina e con la quale collaboriamo sia per la ricerca che per la formazione. vado in Cina e loro vengono qui a Napoli a portare la loro esperienza, sia nella didattica, in particolare presso il master che noi facciamo, ma poi abbiamo fatto delle collaborazioni per delle ricerche. L'agopuntura, il Qipung, il Tui Na, ma la fitoterapia? La fitoterapia è una passione? La fitoterapia è una passione ed è anche, ti porta stupore a dire perché fa parte delle medicine integrate, perché la fitoterapia è la nostra medicina. Immagina che fino agli anni 40, 50, negli ospedali c'erano i boccioni di vetro con gli estratti fluidi dentro, estratti di piante medicinali, cioè si curava con la fitoterapia. Poi, dagli anni 40 in poi, gli anni 50, c'è stato l'avvento massiccio della chimica. Diciamo, il discorso diventa sempre più grande, voglio solo accennare, l'avvento è successo principalmente per un fatto economico. La ricerca privata praticamente non ti permette di fare ricerca su una pianta, perché quando io scopro che la quercia o la curcuma è quasi un farmaco, praticamente io faccio poi un bene all'umanità, non un bene a me stesso. Altra cosa invece è cercare un principio attivo, renderlo mio, praticamente ho risolto tutti i problemi della mia vita, perché poi me lo vendo, è mio quel principio attivo. Questo non significa un ritorno al passato. La medicina allopatica è fondamentale, praticamente principalmente in acuto, salva vite, cioè preziosamente, grossissima, praticamente, però io parlo sempre di medicina integrata. La terapia io credo che sia fatta a scale, praticamente, cioè i primi scalini non è fatto da cortisone, da ansiolitici, da farmaci grossi, è fatta da tisane, prodotti fitoterapici, dare a un ragazzo che ha un problema di tachiaritmia o di leggera ipertensione, dare un beta bloccante per esempio, gli crei una serie di problemi come qualità di vita e allora in questo oggetto si può provare dei prodotti fitoterapici che possono andare benissimo. Recentemente si sta studiando moltissimo la curcuma, praticamente, e io mi sto interessando perché mi ha appassionato moltissimo la fitogenomica e la fitogenetica, in particolare proprio l'epigenetica della fitoterapia, cioè come una pianta può ristabilire il danno genetico dovuto all'inquinamento atmosferico, alimentare, allo stress e così via. La curcuma è quella più studiata. Pensa che ci sono su PubMed, che è un sito ufficiale dove c'è la pubblicazione di tutte le ricerche scientifiche, ci sono 13.300 pubblicazioni scientifiche sulla curcuma. Io credo che non ci sia nessun farmaco che abbia tante pubblicazioni scientifiche, eppure ancora adesso, se tu parli con qualche collega, dici, ma che devi fare queste cazzate, eccetera, eccetera, anche perché non conoscono, praticamente, quindi tutto ciò che io non conosco cerco di allontanarlo, perché i colleghi spesso hanno bisogno di sicurezze in base alle loro conoscenze, conoscenze. Poi c'è anche l'abitudine, per esempio c'è stato poco tempo fa, 7-8 mesi fa, una pubblicazione interessante fatta sul British Journal of Medicine, dove gli antinfiammatori non steroidei creano il 50% di infarto. Sì, quelli da banco. Sì, per cui andrebbero usati con più cautela e quindi andrebbero incentivati gli antinfiammatori più naturali, poi se non funzionano allora tu ci puoi aggiungere ogni tanto qualche antinfiammatorio. Ma è così l'abitudine a prescrivere invece questi farmaci che continuano a prescrivere. Tra l'altro ci sono degli studi che dicono che su alcune patologie la medicina tradizionale cinese è più efficace di qualsiasi altro trattamento chimico, allopatico. Quello più eclatante è l'artrosi o ernie lombosacrali con lombosciatalgia. Oramai è accertato con tutta una serie di pubblicazioni che in questi casi il cortisone non serve. Anche famosi ortopedici nazionali sulla RAI praticamente sono stati intervistati e hanno detto effettivamente il cortisone in questi casi non funziona. Ci sono poi dei grossi studi fatti sia da università americane che da università inglesi con grossi numeri dove ti dicono guarda che l'agopuntura ha la maggiore efficacia rispetto a tutte le altre forme e tecniche terapeutiche. Quindi andrebbe incentivata su questi aspetti. Ma non solo. Oramai per esempio da noi abbiamo creato quasi una sezione per la sterilità e infertilità perché sono stati sempre qui dei lavori fatti dagli americani e australiani dove l'integrazione con l'agopuntura migliora nettamente il risultato della FIVET, della fecondazione artificiale. Per cui ci sta numerose richieste quindi praticamente stiamo verificando l'efficacia e effettivamente aumenta moltissimo la capacità poi di rimanere incinta. E come ti rapporti con i protocolli? Questo è l'aspetto più bello della medicina integrata e su questo ci invidiano invece i colleghi perché si ritorna a come dovrebbe essere la medicina. La medicina non è scientifica. Partiamo da questo presupposto. Ci devono essere dei dati praticamente però è fatta di intuizioni, di chiaroscuri, di interpretazioni, di piccole cose per cui di personalizzazione e quindi praticamente chi fa medicina integrata sa che la visita deve essere olistica. Cioè devi capire anche in che contesto sociale, economico, politico tu vivi per cercare poi di risolvere quel problema. Non basta solo ciò, l'ulcera, prenditi l'omeoprazolo. No, devi capire perché. In medicina integrata in particolare in medicina tradizionale cinese quello che ci chiediamo sempre è perché. E all'università di Enan invece ho imparato un'altra cosa, un'altra parola. Dipende perché qualsiasi domanda che io gli facevo loro rispondono sempre dipende. Dipende appunto dal contesto, dalle cose. Non puoi generalizzare il trattamento. Un po', perciò mi ha appassionato molto anche gli studi epigenetici perché praticamente l'epigenetica ti porta di nuovo a una rivalutazione della personalizzazione. Ognuno di noi ha il suo patrimonio genetico. E infatti in Cina si stanno facendo dei lavori interessanti su costituzione, quindi su personalizzazione e variazioni del patrimonio genetico. che è bellissimo come espressione dell'individualità, della risposta e quindi poi anche della terapia. Bellissimo. Hai detto tutto quello che vorrei dire tutti i giorni in continuazione. Bellissimo. Quello che ora però vorrei anche sottolineare, far capire che stiamo di fronte anche a un medico. Per cui, vado? Insegniamo anche le domande di Annalisa nel video. Se un concetto del genere può essere formulato con una domanda. Eh, perciò dicevo questo qua. A che domanda rispose? Il tuo rapporto con i medici allopatici e con per esempio alcune patologie importanti degenerative come l'oncologia. Certo. Che rapporto hai con i tuoi colleghi allopatici in patologie cronico-degenerative anche gravi come l'oncologia? Come quelle oncologiche. Sì, ed è importante questo aspetto per chi si interessa di medicina integrata. Cioè non bisogna pensare di stare di fronte a uno stregone, uno sciamano, ma stai sempre di fronte a un medico e capisce i limiti poi della medicina integrata. Un'asma violenta praticamente e la persona rischia, in quel caso deve prendere il cortisone. Mi è capitato una ragazza, lei parlava e io pensavo dove fare l'emocromo perché era venuto bianca come un foglio di carta con una rettocolite ulcerosa. Quindi praticamente si curava con l'omeopatia, però perdeva continuamente sangue, quindi stava in un soggetto anemico. Sono riuscito a fargli l'emocroma, l'ho bloccato, ho chiamato la mamma e l'abbiamo ricoverata in ospedale. Ha fatto la trasfusione chiaramente con tutta una serie di problematiche perché lei si innervosiva con me che io avevo fatto tutte queste cose. Però con calma gli ho spiegato che la medicina è una sola, in quel momento lei aveva bisogno di un trattamento violento, ora invece prende curcuma, un cariatomentosa e abbiamo abbandonato tutti i farmaci allopatici. Ma in quel momento aveva bisogno di questi trattamenti. Ma quindi trovi che i pazienti che vengono qui siano cambiati nel corso degli ultimi anni, che vogliano di più, abbiano le idee più chiare oppure... Scusami, non l'ho detta bene. Scusami. Si capisce? Taglio l'ultimo pezzo o la ridico? Io la ridirei con il formulando, come sono cambiati i pazienti? Si esatto. L'approccio, se l'approccio è cambiato. Nel corso di questa esperienza, come è cambiato l'approccio delle persone che vengono qui? Allora, guarda, dagli inizi proprio, diciamo, rispetto agli anni 93-94 c'è stato un grosso cambiamento. Prima curarsi con l'agopuntura e con la fitoterapia era una cosa legata un po' a un certo tipo di sceto sociale, medio borghese, quasi una moda, diciamo. Poi man mano, man mano, si è aperta questa cosa. Infatti, sia l'agopuntura che la fitoterapia sono le poche tecniche mediche che sono state inserite nel patrimonio terapeutico voluto dai pazienti. Perché spesso capita che sono i medici che ti propongono tecniche terapeutiche innovative. Qui invece, con la medicina integrata, è il paziente che impugna al medico di aggiornarsi perché vuole essere curato in un modo naturale. Non vogliono capire nemmeno il meccanismo d'azione. Vengono queste persone, queste vecchiette che ti dicevo prima, con i loro problemi di artrosi, ansia e disturbi vari. Loro vogliono stare bene, se ne fregano come funziona, che cosa è, da dove viene, eccetera, eccetera. Loro vengono, hanno l'artrosi al ginocchio, vogliono stare bene, se è possibile, senza prendere un antinfiammatorio di sintesi. Perché hanno capito che meno lo prendono, meglio stanno. E quindi l'approccio è diventato più pratico, praticamente. Chiaramente, però, diventa sempre una cosa costosa, se non lo facessero in un ambiente pubblico. Cioè, sono pazienti questi che non andrebbero mai in un ambulatorio pubblico, in un ambulatorio privato, perché non sta alla loro portata. Ma poi, l'altro aspetto fondamentale, quello che io ho cercato di comunicare ai politici, praticamente, che con la medicina integrata, con l'agopuntura e la fitoterapia, la sanità risparmia milioni di euro, praticamente. Per fare agopuntura serve un lettino, una scrivania e gli aghi. 100 aghi costano 7 euro. Non hai bisogno di altro, praticamente. Quindi, si risparmierebbero un sacco di approcci farmacologici che, praticamente, sono a carico di noi cittadini, poi, alla fine. Invece, in questo modo qua, è rarissimo che il soggetto che fa agopuntura poi assume farmaci allopatici. Abbiamo fatto degli studi per quanto riguarda la dismenorrea, per quanto riguarda la cefalea e abbiamo dimostrato come si risparmiano centinaia e centinaia di migliaia di euro, praticamente. Non solo. Chi prende farmaci allopatici, poi, c'è il rischio dell'effetto iatrogeno e quindi vanno incontro a malattie, ripovero, pronto soccorso, eccetera. Dovute a atti medici o farmacologici. Esatto, ma anche il pronto soccorso. Perché il paziente che si cura con la fitoterapia, ma anche con l'omiopatia o con l'agopuntura, prima di andare in pronto soccorso, ti telefona. E quindi noi facciamo una specie anche di filtro per il pronto soccorso. Perciò è fondamentale oramai questo approccio più dinamico, diverso alla medicina. Ma secondo te i medici giovani, quelli che stanno studiando medicina, sono più interessati oppure sono invece ancora pieni un po' del condizionamento? Dell'aspetto scientifico. Dell'aspetto scientifico. Dell'aspetto scientifico. Che è sicuramente un aiuto l'aspetto scientifico, uno strumento, però come dicevi tu la medicina è anche intuizione, interpretazione. Questo è una domanda complessa, cercherò un po' di vedere perché perlomeno nell'esperienza che vedo io, chi si avvicina alla medicina integrata, alla medicina tradizionale cinese o alla fitoterapia sono colleghi già un po' più avanti con l'età. Qualche giovane si avvicina non per passione, per cultura, ma per un facile inserimento nel mondo lavorativo. Ed è la cosa più errata che ci possa essere. Perché credono che conoscere l'agopuntura o conoscere la fitoterapia è molto semplice. Non riescono a capire invece che è una specializzazione, va studiata. Io ho fatto tre corsi di quattro anni l'uno, praticamente. Ci ho messo dodici anni per diventare un discreto agopuntore, praticamente. Devi studiare, devi studiare storia e filosofia di quel popolo per capirlo, per cercare di capire dietro a un angolo e a un punto che c'è. La stessa cosa della fitoterapia. Che tipo di preparazione galenica, quali principi attivi puoi utilizzare, gli effetti collaterali, il sinergismo, l'antagonismo. Non è facile, ma è oramai opportuno che tanti medici incominciano a interessarsi di fitoterapia. Perché è così diffusa oramai che quando arriva un paziente, per esempio, che deve fare un intervento e prende delle piante medicinali, il collega chirurgo non sa poi che pesci prendere. Dice, o puoi prendere, o non lo puoi prendere. La cosa più semplice è dire, vabbè, non prende niente. Invece, conoscendo quella pianta, lui capisce anche l'integrazione. Perché se io prendo dei sedativi di piante antistress sedative, è chiaro che se devo fare un intervento, puoi interferire e quindi ampliare l'effetto dell'anestesia e quindi non lo fai prendere. La stessa cosa, se io prendo dei tonici, il cordiceps, il ginseng, eccetera, è chiaro che un giorno, due giorni prima dell'intervento cerco di evitare, perché se no ci vuole più anestetico. E quindi però il collega anestesista, chirurgo, la stessa cosa, il cardiologo, dovrebbe conoscere perlomeno quelle piante più comuni. Per questo motivo noi ogni tanto organizziamo qui in ambulatorio degli aggiornamenti proprio su alcune piante per divulgare gli effetti collaterali, ma anche la sinergia tra piante e prodotti di sintesi. Tu pensa se c'è qualcos'altro che vuoi... No, io volevo andarci un po' più pesante con i giovani, ma ci tendo a evitare. Eh, ma infatti... posso chiederti che cosa consiglieresti a un ragazzo che adesso sceglie di fare medicina? Allora, la medicina è una delle... ed essere medico è una delle professioni più belle che ci sta in questo attualmente, per cui prima di tutto serve passione e umanità. Ma quello che è fondamentale è conoscere la medicina tradizionale cinese, e quindi la speculazione filosofica della medicina tradizionale cinese. Perché? Perché vedi gli aspetti sotto un'altra angolazione. Cioè, mentre tu l'affronti in un modo con la medicina allopatica, avendo le conoscenze della medicina tradizionale cinese, vedi quella patologia sotto occhi diversi. E quindi puoi dare dei consigli, avendo maggiore conoscenza, dei consigli terapeutici ancora più approfonditi, più integrati e più vari, anche utilizzando la medicina allopatica. Io credo che in qualsiasi professione tutti dovrebbero avere una conoscenza della medicina tradizionale cinese, cioè un approccio verso il mondo, della visione del mondo tipico della medicina tradizionale cinese. dove si parla di yin, di yang, di costituzione, di unione praticamente. E quindi complementarietà, ritmo, dinamica, mai opposizione violenta. Questo è fondamentale. Saremmo più buoni tutti quanti. Ti faccio la penultima domanda. Mi piacerebbe sapere, dunque, cosa ti è piaciuto di più e cosa sei riuscito a portare della mentalità cinese? Della mentalità cinese, molti medici e studiosi della filosofia cinese, all'inizio si sono appassionati del taoismo. È un aspetto bellissimo, diciamo, no? L'integrazione con la natura, tutti questi aspetti enormemente energetici e olistici. Per cui mi sono appassionato anche io. Ma la medicina cinese non è solo taoismo. È il taoismo e il confucianismo. Il rispetto delle regole, il rispetto dell'organizzazione sociale, familiare, il rispetto del lavoro, il rispetto del superiore, il rispetto delle cose. E quindi quello è un altro aspetto fondamentale che noi occidentali, invece, abbiamo trascurato. Si può anche dire che aiuterebbe molto anche l'idea di non superare dei limiti della natura, dell'ambiente, della nostra natura interiore, interna, delle regole della natura. L'uomo è insimbiosi con la natura, non può opporsi o cambiarla, ma deve vivere insieme alla natura seguendo il flusso naturale delle cose. Non serve la forza. C'è un passo del Tao Te Ching, che io spesso concludo le mie relazioni, dove, non ricordo quale capitolo del Tao Te Ching, dice che la rigidità appartiene alla morte. Invece la duttilità è vita, il bambino è duttile, l'anziano è rigido, albero rigido si spezza, albero flessibile campecintana. Scusami a te ridere, in napoletano. Se tu poi non ne hai altri, ti faccio l'ultima domanda, te la spiego prima. Ti chiedo che cos'è Salute che cambia? Ovviamente non parliamo del progetto nostro, ma in generale... Scusami, vai vai. Che cos'è per te Salute che cambia? Aspetta, in che senso? Esatto, noi raccontiamo un cambiamento che sta avvenendo in Italia, che è anche quello di una maggiore sensibilità, seppur poi c'è una stretta colpo di coda, però c'è un cambiamento culturale rispetto alla salute, un po' questo, però tu puoi dire quello che vuoi. Cioè, questo concetto di Salute che cambia cosa ti fa pensare? Molto libero. Sì, molto libero. Anche oltre l'aspetto professionale. Sì, sì. Che cos'è per te Salute che cambia? Ma il concetto di salute negli ultimi tempi è cambiato, è cambiato tantissimo. Per me, in particolare, l'approccio e andare verso la salute è non semplice, ma sempre un po' complesso. Nel senso che, oltre ad avere un benessere fisico, diciamo, e quindi controllare tutti gli svolti, tutte le conflittualità fisiche, e occorre anche avere una buona armonia mentale. Benessere e salute significa anche una consapevolezza del tuo essere, in modo che non vai incontro a conflittualità, a stress. Perché recentemente, oramai, si vede che le forme di malattie degenerative croniche sono legate proprio a stress, a conflittualità, che la persona ha con se stessa, perché non riesce a esprimere, perché ha paura di tutta una serie di conflittualità in questo mondo quando tu vai a manifestare te stessa. Perché oggi bisogna essere belli, biondi, azzurri, magri, muscolosi, eccetera, eccetera. E invece non è così.